Buongiorno ragazzi, allora io adesso vado in Ford a vedere i nuovi furgoni e a fargli fare un'offerta poi torno e continuiamo qua tutti i pezzi necessari però arrivano domani oggi vediamo cosa accrocchiare sicuramente passo da Tecno ma ti compro le scatolette esterne così prevediamo comunque tutti i collegamenti alla fine poi facciamo il punto ma ho deciso di staccare tutto e presostato, allarme e tutto vanno su linea separata quindi c'è l'aspiratore e linea separata una domanda però così capisco se comprarlo oppure no oltre alle scatolette per alimentare tutto il circuito ho bisogno di un alimentatore a 12 volt quindi devo entrare con i 220 e uscire con il 12 ho questo alimentatore da campanello da barra din che sarebbe perfetto va bene? dovrebbe andare bene se non sbaglio è un 12 volt è uno di quei pezzi che ho trovato qua in capannone se mi date una mano a capire sta roba altrimenti compro un alimentatore a 12 volt da TecnoWatt e lo mettiamo alla scatoletta ci vediamo dopo allora, è arrivata l'estate? mamma mia Ford finito furgone si cambia va bene adesso mi sono fatto dare le carte domani parlo con la commercialista giusto per Proforma e poi lo ordino modello nuovo completamente diverso cioè stesso furgone ma modello nuovo in pratica un sacco di optional fregnacci in più di fatto ho scelto così per il semplice motivo che il nuovo modello comprende tutte le modifiche che avrei voluto fare qua il vano sotto il passeggero per i carichi lunghi è un infotainment diverso tutto digitalizzato carail play tutti i cazzi mazzi che non servono a niente c'è solo da scegliere il colore il colore dell'attuale il mio è rosso non metallizzato c'era in pronta consegna un metallizzato grigio chiaro ma francamente anche no allora ho fatto fare il preventivo del metallizzato però antracite passiamo dal rosso all'antracite e magari a sto giro le facciamo le scritte sulla fiancata non lo so vediamo tempi di consegna se domani o settimana prossima ripasso di qua e io lo confermo settembre giù di lì comunque prima della fine del contratto di questo per me l'importante era la contingenza anche perché questo c'ho se no rimanevo senza uno andiamo al Tecnomat andiamo al Tecnomat che come sospettavo mi avete confermato che l'alimentatore che ho 12 volte è un alimentatore AC e io ho un alimentatore DC quindi non so se lo vendono se lo vendono a barra D meglio che facciamo un'installazione tutta pulitina se invece non lo vendono mettiamo dentro un trasformatore normale da led che non c'è problema poi vediamo un attimo come strutturare le cose perché domani arrivano tutti i pezzi i shell e tutto avremmo per andare avanti ma facciamo un attimo il punto perché magari riusciamo a fare un sistema anche un po' più pulito perché domani arrivano gli SP32 arrivano gli shell I1 che ha più senso metterlo dentro in alternativa se oggi non andiamo avanti fisicamente con l'aspiratore andiamo avanti teoricamente con l'aspiratore perché io ho il sensore di profondità non ho le SP posso usare il sensore di profondità per iniziare a capire se è un'idea buona quello lì che non è infrarosso non mi ricordo quello che c'è il nome futuristico comunque posso usarlo collegato a un Arduino per il momento giusto per leggere i dati cerchiamo di capire come fissarlo cerchiamo di capire tutto ieri poi non sono neanche andato avanti più di tanto con le interfacce per cui dato che non ho materiale magari mi riservo un po' di tempo per le interfacce perché se non inizio a fare le interfacce della domotica poi mi ritrovo con 400 milioni di sensori da organizzare e diventa un po' un incubo però dopo facciamo un po' il punto inizio ad andare da Tecnomat vediamo se dovrebbero essere gli alimentatori quelli da citofono dovrebbero essere vediamo se ce l'hanno se no andiamo di uno normale e una scatoletta di derivazione bella grossa così mettiamo lì tutta l'elettronica dai ci vediamo dopo in laboratorio ah no vi aggiungo una roba un ragionamento allora ieri mi sono arrivati tanti messaggi perché me l'avete proposto in una decina di aggiungere come metodo di pulizia del filtro anche uno scuotitore uno scuotitore è un altro che un motore vibrante qualcuno mi ha proposto dei motori vibranti già in vendita già fatti così qualcun altro mi ha proposto di attaccare una rota orbitale al filtro ok perché di solito qualcuno mi ha anche scritto perché di solito quelli sono i metodi per gli aspiratori professionali come se il mio aspiratore da 4000 euro non fosse professionale al di là di questi ragionamenti secondo me non è una scelta intelligente ragazzi non tanto perché non funzionerebbe o non va bene o non fa il lavoro giusto ma perché è vero che io sto facendo una modifica sostanziale all'aspiratore ma anche no perché di fatto io non sto facendo esattamente come ho fatto per la squadatrice non sto facendo altro che aggiungere aftermarket in autonomia tutti gli optional che ci sono già certo non con un retrofit come si fa con le auto comprando i pezzi originali ma di fatto non sto andando a modificare il funzionamento dell'aspiratore o in questo caso il funzionamento del pacco pulizia filtri lo sto andando ad automatizzare come lo farebbero la Felder come lo farebbero se lo compri con quell'optional lì optional che fra l'altro per il mio non esiste perché esiste solo per il modello più grande da 160 andare a inserire un agitatore uno scuotitore un vibratore al filtro secondo me non è una scelta intelligente perché l'aspiratore non è pensato per avere quel tipo di pulizia del filtro cioè nulla è pensato perché il filtro vibri il filtro è grosso pesante l'avete visto è appoggiato su delle guarnizioni il filtro avete visto quante viti ha il filtro su due staffe di alluminio che lo tengono incollato io non so sinceramente aggiungere un vibratore cosa comporta a livello ingegneristico al di là del piazzare il vibratore sopra il filtro non so se la struttura è pensata per sopportare quelle vibrazioni se il funzionamento è giusto magari poi non succede niente però non mi sembra una scelta intelligente il metodo di pulizia scelto per quell'aspiratore lì sono le spazzole con pistone o manuale manteniamolo così non ha senso cioè se vado a stravolgere il suo funzionamento in capo dei problemi ingegneristici che non voglio affrontare quindi secondo me non è un'idea intelligente allora è entrato poi rispondo a tutte le domande sul furgone ragazzi lasciamolo almeno non dico non dico cazzo arrivare ma almeno che io lo confermi non l'ho confermato oggi solo perché aspettavo l'apirizio del treno no perché almeno un passaggio dal commercialista lo faccio comunque è uguale c'è lo stesso furgone ok il modello nuovo non è full electric non è neanche più hybrid non ho preso quello allora c'erano varie opzioni dipendeva anche un po' dai tempi e le lungaggini di attesa non che avesse urgenza ma mi rompeva andare oltre la fine di questo contratto c'era il full electric pochissimi pezzi costosissimo che non si addice a me il mio quello che è il mio che è un myd hybrid cioè diesel con motore elettrico non lo fanno più poi magari sbaglio i nomi c'era quello ibrido però ok benzina ed elettrico e c'era quello solo diesel io da buon amante del fossile ho preso solo quello diesel ho preso solo quello diesel per una serie di motivi la tecnologia mista è ancora facciamo finire il prete rifesteggiare che ho preso il furgone poi vi dico stavo dicendo c'era tutto elettrico che non si addice a me non ho un impianto fotovoltaico per cui secondo me ha decisamente poco senso e autonomia 300 km non mi sono informato su neanche quanto sono più o meno cosa costa ricaricarlo perché tanto non l'avevo preso tempi di attesa lunghissimi e costo spropositato c'era l'ibrido benzina elettrico autonomia della parte elettrica 50 km quindi poco o niente e poi benzina perché hanno accoppiato le cose così anche a detta del venditore una tecnologia nata per morire nel senso che tra quattro anni convertiranno tutto praticamente o full electric o a diesel e poi c'era il diesel io ho preso ad amore avanti il fossile il solo diesel ho preso il solo diesel che rispetto al mio ha il vantaggio come vi dicevo di avere il vano di carico un po' più lungo a fronte della stessa dimensione esterna perché ho anche il passaggio sotto il passeggero che nel mio che è misto invece era occupato dalle batterie aggiuntive poi cos'altro hanno cambiato vabbè rispetto a questo è metallizzato l'ho preso grigio antracite come quello dello sfasato per intenderci stesso colore hanno fatto il volante sportivo ho preso il modello titanio quindi con più optional paravezza sbinabile un paio di telecamere in più più sensori altre cazzate così inutili ho la sensazione che i furgoni stiano andando sempre più verso le auto cioè le accessoriano con delle auto basta pensare alla plancia che però devo dire è fatta veramente bene che non sembra neanche quella di un furgone è tutta completamente digitale uno schermo da 15 pollici che sembra una roba della Tesla airplay senza filo mi hanno garantito che questo giro funziona perché quello che ho io non funziona c'è il cavo non si attacco mai non funziona il touch lo vorrei stradicare tutte le volte che lo apro anche tutto il contachilometri è completamente digitale keyless sto dicendo via in ordine sparse quindi nessuna chiave chiave interfacciabile direttamente con l'iPhone due antenne la diagnostica la fanno direttamente da remoto completamente integrabili in un assistant non come il mio che è integrabile a metà quindi c'è anche l'avvio riscaldamento quelle cazzate lì anche se in realtà non servono e questo è ragazzi vado a confermarlo settimana prossima dopo il passaggio dal commercialista la rata mensile mi rimane uguale non mi ricordo come si chiama non è un leasing non è un noleggio è la cosa è una formula della Ford per il quale ogni 4 anni poi tu puoi cambiare o riscattare siccome per me è un mezzo di lavoro e non ha senso riscattarlo nel senso ho il furgone da 4 anni e ho su 22.500 km praticamente niente quasi neanche sono uscito dal rodaggio perché lo uso pochissimo ho sempre usato pochissimo l'auto se dovessi pensare di riscattare un furgone che ha una vita media secondo me di 200.000 km li fa un furgone secondo me mi terrei un furgone probabilmente fino alla fine dei miei giorni siccome non farò sempre questi lavori comunque prima o poi vorrò un'auto normale non ha senso per me riscattare un furgone e tenerlo come auto quindi rifaccio il giro tra 4 anni ci pensiamo se tra 4 anni vado in pensione non riscatto il furgone semplicemente anche perché con quella formula lì non è detto che io debba per forza prendere un furgone e infatti ho visto la nuova Mustang 5000 di cilindrata cambio manuale ah ecco l'altra cosa che mi ha fatto popendere il brisolo diesel è l'unico che fanno col cambio manuale tutti gli altri cambio automatico e il cambio automatico sinceramente anche no l'ho avuto una volta solo sull'S3 e anche no ma al dia del furgone che avremo modo di vederlo di parlarne anche di quello anche perché a sto giro vorrei realizzare il pianale dietro è un'idea un po' particolare mi ha confermato che io posso benissimo fare qualsiasi modifiche al furgone non è un problema a meno che non sia strutturale ti può cambiare che cazzo ne so le sospensioni le ruote per cui il pianale dietro lo faremo al di là di quello torniamo a noi cosa ho acquistato una scatolotta da derivazione grande ne avevo due piccole ne ho presa una grande più che alto anche solo per estetica per come deve stare di fianco un po' di passacavi penso si chiamino così esatto di varie misure che mi mancavano e tre trasformatori tre trasformatori perché non ho trovato il trasformatore da barra din che mi finisse in continua non ce l'avevano ne avevano solo uno ma l'avevano finito e quindi non l'ho trovato e non l'ordino su amazon perché ho già chiuso l'ordine su amazon per gli scelli non ho voglia raggiungere altra roba intanto metterci dentro un trasformatore normale è la stessa medesima cosa l'unica cosa è che non si aggancia la barra din non cambia niente mettiamo via questo qua in alternata che è qua da un secolo e mezzo e starò qua un altro secolo perché non ne trovo un utilizzo non riesco a dargli un senso a quell'alimentatore lì 12-24 AC fa niente ne ho presi tre perché un po' perché tanto mi servono sempre e un po' perché li ho presi due da un ampere e uno da tre ampere perché non mi ricordavo quanti ampere mi servissero adesso faccio una prova metto su un alimentatore al banco e vedo quando è sotto sforzo quanti ampere consuma e quale usare piano breve lungo termine breve termine non lo so ragazzi non so oggi cosa riusciamo a fare dobbiamo fare un attimo il punto domani arrivano il sensore ce l'ho già domani arriva le SP32 e gli shelly per andare avanti con il resto ma per questo in realtà serve solo le SP32 in tanti mi avete chiesto perché non uso uno shelly 2pm per fare questa roba qua perché non ho un contatto pulito e non esco a 12 con lo shelly 2pm e tanti mi chiedete perché non uso invece tutto le SP32 sia per quanto riguarda il sensore del filtro sia per quanto riguarda il sensore luminoso di troppo pieno perché il sensore del filtro mi va col voltaggio delle SP32 mentre il led e il resto è a 220 e poi perché come ho detto ieri preferisco tenere le tre cose separate una cosa movimenta il filtro una cosa si occupa dell'allarme l'altra cosa misura la quantità del sacco la volontà di tenere tutto separato per una questione di dividere di impara che se si rompe qualcosa si rompe un pezzo e non tutto ed è un po' più facile da mantenere per me quindi direi potremmo fare così piano per oggi chiuderlo di fatto tanto a me anche se non ho qua il sensore non ho qui le SP mi dovrebbe bastare tirar su un altro cavo che va da sotto dove decidiamo di mettere il sensore a sopra e dopo ragioniamo se dobbiamo mettere il sensore che mi faccia passare i dati tra il sensore e le SP che saranno nella scatoletta per cui il cavo posso anche già tirarlo su tanto è un cavetto da led è un cavetto di risorio mi sembra servo un cavo a tre contatti ne ho uno a cinque e va benissimo quindi si potrebbe già chiudere tutto e si potrebbe volendo già integrare anche l'allarme tanto posso usare l'1pm senza aspettare i due è un po' uno spreco ma non ho bisogno di usarlo da nessun'altra parte quello lì che gestisce il carico piano a lungo termine invece fine settimana fine settimana assolutamente l'aspiratore deve essere chiuso se no non siamo in timing con la domotica quindi dato che ci è andata bene fino adesso procederei così l'aspiratore entro fine settimana deve tornare al suo posto e avere le schede a home assistant e le automazioni già fatte per l'armadio rack che è rimasto indietro e non ha una scheda e non si capisce un cazzo e la scheda per questo quindi un po' di lavoro di grafica e un po' di lavoro di programmazione ora faccio un attimo il punto direi di cerchiamo di capire dove passare il cavo che poi in realtà è dove attaccare il sensore anche se sarebbe buono provarlo il sensore però poi alla fine un sensore vale l'altro su dove metterlo perché la dimensione è sempre quella poi cerchiamo di capire che alimentatore devo usare se quello da 3A o quello da 1A allora questo quando è in funzione consuma 1,2A e più poco più di 15W quindi direi che dobbiamo usare quello da 3A dobbiamo usare l'alimentatore da 3A che è anche 30W se non sbaglio 3A 30W perché a questo ci andrà attaccato anche anche l'SP a questo alimentatore con uno step down quindi almeno siamo coperti tanto l'SP di sicuro non consuma 15W peccato perché è un alimentatore veramente raccapricciante che arriva direttamente negli anni 60 però vabbè l'importante è che riusciamo a metterlo nel posto giusto fra l'altro chi fosse interessato si consuma così anche al ritorno quindi è uguale ed è già sotto sforzo perché è il filtro quindi quello da 30W chi fosse interessato questi generi di affari qua li vendono anche da Tecnomat se andate almeno quello qua se grate se andate nel reparto led li trovate a due vie o a tre vie a 12 o a 24 e sono sempre tuya quindi sono sempre integrabili con lo stesso sistema non l'ho comprato perché vabbè avevo questo è la stessa identica roba neanche quello ha la funzione interbloccata quindi non mi serviva niente io direi che si può cercare di capire come passare il cavo prima di perché così poi posso fare il foro e chiudere il tutto il sensore che va dentro che voglio usare è questo ok un sensore ultrasonico emette un raggio da una parte riceve il ritorno dall'altra e in base al ping che riceve si può fare il calcolo per capire la distanza sono quattro contatti quindi serve un cavo a quattro poli come collegarlo poi vedremo e dovrebbe stare idealmente in una posizione del genere quanto più possibile centrare sul sacco poi ovviamente la segatura all'interno qua c'è il sacco quindi centrale c'è la speranza che non identifichi qualche piega del sacco la segatura non si muoverà in maniera uniforme ovviamente noi calcoleremo quando arriva in fondo avremo il minimo avremo il massimo e poi più o meno cercheremo di capire questa è la soluzione che secondo me è la più intelligente qualcuno ieri mi ha proposto un galleggiante su che cazzo debba galleggiare il galleggiante dato che segatura non si sa ma la metto al paio di chi mi ha proposto di spruzzare l'aria compressa all'interno del filtro per pulirlo facendo neve da tutte le parti questo suggerimento ovviamente in questo senso va bisogno un enclosure va bisogno di qualcosa noi prima lo faremo a banco e poi dopo lo metteremo su va bisogno di un enclosure che lo protegga protegga le saldature protegga tutto che venga su ovviamente dove piazzarlo qui è un po' un po' un match perché il livello del sacco è questo cioè meglio il sacco in teoria non si deve riempire più di qua non ha senso agganciarlo al cestello perché siccome è collegato col cavo il cestello deve tirarlo fuori e rimetterlo dentro per pulire potremmo cercare di capire se c'è un punto qua che ci rimane più o meno fisso o se c'è da aggiungere una barra o qualcosa per metterlo qua che forse è la cosa più intelligente che possiamo fare però di fatto sul ragionamento che facciamo oggi di dove tirare il cavo ci cambia niente tiriamo il cavo semplicemente nell'altro passaggio che abbiamo veniamo giù e lasciamo un cavo qua che penzola qua per il momento che poi penseremo come collegare tutto secondo me la cosa più intelligente è aggiungere di qua e di là qualcosa una barra o anche in questo senso forse ancora meglio ok che tiene su il sensore però lo vediamo una volta che siamo sicuri che il sensore è questo ci sono anche altri tipi di sensori ce ne sono anche già configurabili vi metto il link di un sensore già configurato per funzionare con con un assistant cioè in realtà con tu ma poi con un assistant che serve per i serbatoi dell'acqua quello che non mi ha convinto di quello rispetto a questo è che quello restituisce già una misura e l'indicazione che mi davano era minimo 20 centimetri massimo 78 quindi i 20 centimetri qua sono tanti su questa misura qua perché questo affare qua è alto 70 centimetri e soprattutto non voleva rettifico il sensore che vi ho messo 10 centimetri non 20 poi 2 metri e mezzo non mi convinceva prima perché passano i 220 direttamente dentro non mi piaceva l'idea e secondo ho letto un po' di problematiche rispetto al fatto che comunque funziona con l'acqua non va bene con la segatura quello ultrasonico invece dovrebbe sbatterse della polvere della segatura perché lo usano anche nei silos di mais nelle cose di pellet stessa stessa roba vedremo quello che ci frega noi è che passiamo il cavo quindi prendiamo il cavo passiamo il cavo lo facciamo tiriamo su ci basta un cavo se ho ancora quello a 5 poli che ce n'è uno in più per i led va benissimo ovviamente non ne ho più perfetto mi sembra corretto eh no forse c'ho un avanzo andiamo avanti tutto con gli avanzi ragazzi forse ho un avanzo e vediamo di passare quella roba lì così almeno attacchiamo tutto allora lei è attaccata a posto così il cavo del sensore che poi collegherò è il cavo dell'attuatore a cui c'è da togliere questo pin adesso qui devono entrare questo ok del pressostato che fa da da interruttore sullo scelli e questo che è quello della lampadina ok è un eh ho passato un tre poli però di fatto mi serve solo un polo perché mi servono solo due poli per chiudere per chiudere il contatto della lampadina lì e poi deve uscire un'alimentazione con una presa blu vediamo se ne ho ma ci pensiamo dopo devo organizzare lì dentro con una barra d'in farci stare tutta questa roba qua farci stare anche il trasformatore e soprattutto non perdere il giro dei contatti che ho fatto dato che sono sempre ignorante a bestia io procederei con un bel divido ed impera ripensiamo questo dopo pensiamo all'allarme cerchiamo di capire come metterlo perché questo qua non ha purtroppo la gancia d'in non ho nessuno sbattimento di mettermi a stampare qualcosa tanto questo qua quando è lì magari facciamo se la barra d'in la mettiamo per così ci sta sulla roba possiamo fare anche così adesso vedo come fare però di fatto quello è lo spazio che ho a disposizione altro spazio non ce n'è non ce n'è non ce n'è al di là del fatto che il telefono ha smesso di fare il timelapse perché era pieno ho fatto tutti i collegamenti peccato perché ho fatto un lavorettino allora ho fatto un lavorettino abbastanza ordinato ok tutto su barra d'in ora la stampante sta stampando oddio la dislessia sta stampando un aggancio per barra d'in per lo shelly ok ce l'ho fatta così lo mettiamo dentro io qua ho già preparato le connessioni così possiamo connettere anche il resto e quella la chiudiamo ho già detacciato anche ieri uno di voi mi ha chiesto cosa vuol dire detacciare penso che io lo usi perché in programmazione c'è detacciato quindi è derivare sostanzialmente ho detacciato l'alimentazione per lo shelly e shelly ho già rifatto i collegamenti che non ho ancora testato per l'altro fra l'altro avere stampato aver mandato in stampa l'aggancio per la barra d'in mi ha fatto pensare a una roba l'ho mandato in stampa direttamente dal telefono ok il cloud in questi giorni il bambù sclera un po' o meglio non mi manda più le notifiche della stampante quindi io direi che si può fare anche un'altra cosa strappiamo la stampante dal cloud di bambù per le notifiche per quanto riguarda le notifiche che fanno comunque schifo e ci rifacciamo tutte le notifiche in home assistant me lo devo segnare così almeno compaiono anche sul pannellone grosso senza bisogno che ci sia installato su bambù handy che tanto non posso avere una cosa in attesa della stampa e mentre mangio qualcosa già che sono in ballo vorrei prevedere l'alimentazione che ci sarà per l'SP io l'SP fra l'altro non so bene che dimensione abbia però non deve essere grossissimo quindi c'era da stampare un supportino per la baradina che di quello tanto voglio dire lì c'è lo Shelly e sotto ci mettiamo l'SP quindi ho bisogno di uno step down ora io ho gli step down che escono direttamente con la USB che dovrebbero andare bene perché se non sbaglio può essere alimentato a 5 volt l'SP32 però non mi ricordo cosa voglio nell'ingresso con questi step down sono questi ok vi lascio il link se mi fate la corte perché non capisco cioè qui sopra c'è scritto un 220 però in realtà a me sembra dal link che in verità derivino i 12 i 12 li portano a step down a 5 intanto io controllo se è vero che si può alimentare a 5 il il l'SP32 adesso non sono a falsico perché a quel punto attacco direttamente un cavetto USB-C e non ne parlo più dai ultima cosa poi lo possiamo chiudere e testarlo allora supporto dello Shelly stampato questo guarda ormai ce l'ho sempre in canna come fai sull'SD fatto grazie per le risposte sullo step down da 12 a 5 cioè posso usare direttamente il 12 che che esce dall'alimentatore quindi lo colleghiamo lì se vi guardate le storie di stamattina capite come sto messo ho detto stamattina uso l'alimentatore da 33 ampere così almeno ci posso attaccare anche lo step down e quindi l'SP32 e poi mi sono dimenticato che avevo già guardato e avevo già capito come funzionano questi che cosa sono quindi ormai sto alla frutta faccio gli ultimi collegamenti poi alimento lo Shelly esterno per un attimo giusto per metterlo all'interno dell'app e sulla mia rete con ripifisso e poi e poi possiamo anche chiuderlo sì e possiamo testare sia la spia che il movimento forse non lo so vediamo che c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Basta, va bene così. Sostituirò un domani la PSP, la P1S, ma un domani, cioè non adesso. Ho appena presa, cioè grazie, ma non è che posso sempre spendere soldi. Allora, che dire, tutto fatto. Allora, ho messo un connettore rapido per l'attuatore e un connettore rapido per lo step down. Se si fulmina qualcosa lo tiro via e poi ho già connesso il cavo USB. Questo è quello del sensore che ci servirà domani. Lì c'è una presa d'impianto, il cavo è fin troppo lungo, perché ormai lo accorcio là se no lo avvolgo. Se non ricominciamo con la storia che avvolgendo il cavo prende fuoco come un tempo sulla pialla, non so chi se la ricorda. Lo Shelly è in rete, adesso non è attaccato. Direi che possiamo... Ah no, devo chiudere ancora questo. Chiudo qua e poi possiamo provare le due cose. Se funziona tutto, allora in teoria, cioè senza in teoria, noi dovremmo essere in grado di accendere la luce anche solo attraverso lo Shelly. Sono fatti i collegamenti giusti. Perché dico lo Shelly di accendersi, perché questo qua gli fa l'interruttore, ma io ho comunque il relle domotico. Non mi servirà mai, non lo userò mai, però posso dirgli di accenderlo e accenderlo. In realtà ora che ci penso, mi servirà accendere l'allarme per i test, quando, se facciamo il test, che deve buttare fuori una notifica, un allarme, un suono o qualcosa, senza aspettare che il Biksuka vada in allarme. Però dobbiamo cercare di simulare il vero allarme del Biksuka, perché, cioè dobbiamo simulare che questo chiuda il contatto, perché ho bisogno di vedere che tutto funzioni correttamente. E secondo me basta avviarlo, e secondo me, dicevo, basta avviarlo, se non ricordo male, tutto chiuso, dentro il carrello, il sacco, lo si tira su, quando è tutto chiuso, se non c'è attaccato niente qua, lui va in allarme. Se no, magari possiamo giocare con le soglie, non lo so, vediamo. Una cosa alla volta. Iniziamo a richiudere tutto e attaccarlo. Tanto lo attacchiamo qua al volo, cambiamo la presa. Questa qua è tutto sotto Master e Slave, però non ce ne frega niente. Perché l'alimentazione ce l'ha. Al massimo fa un Master su qualcosa che non c'è di là. Riavvito tutti questi dati che sono tipo il pianto. Siamo connessi. Tutto è connesso. Beh, le alimentazioni funzionano, perché vedo lo step down alimentato, vedo quello alimentato, quindi se non altro l'alimentazione 220 funziona e non ci sono dubbi. Ora, non ho ancora messo dentro il bidone col sacco, perché, vedete cosa vi dicevo del sacco? Che misura, ma dovremmo fare un po' di necessità dentro. Il sacco una volta che è dentro non si muove, cioè messo dentro bene non è che questo sbatte proprio per dire la pressione, anche perché hanno fatto questo sistema qua. Vedete che qua c'è una griglia, ok? Qua c'è una griglia, qui c'è, questo qua devo anche riattaccarlo, un neoprene, un innesto qua, che dal cui passa l'aspirazione, aspira attraverso questa parte, quindi tiene incollato il sacco. Quindi il sacco non si muove, quindi se lo posizioniamo bene, misuriamo, poi la segratura dentro avrà più o meno la forma che avrà. Ma al di là di questo. Non ho ancora messo questo, perché prima devo verificare che funzionino le spazzere sotto. Quindi lo facciamo in manuale, tanto perdiamo in tuia. Ok, funziona. Ok, vanno in un senso e vanno anche nell'altro. Perfetto. E adesso arriva a fine. Quindi i collegamenti di quello li ho fatti giusti. Il primo è un win. Vediamo se facciamo un win-win. Ho messo dentro il sacco. Sacco e sotto, che in realtà andrebbe fatta anche un'altra modifica, ma tanto è hardware e la vediamo dopo. Vedete cosa vi dicevo? Si deve innestare perfettamente l'immodo che succhi. Ora, prima di accenderlo però, io non ricordo sinceramente. Ho un vago ricordo che se lo accendo così, aspira e manda in allarme. E in teoria, in realtà, attiva lo Shelly e lo Shelly attiva quello. Per vedere se il collegamento, almeno tra lo Shelly e la luce è fatta giusta, proviamo... Devo spiegare la sigaretta. Ad accendere... C'ho qua un bordello. Ad accendere... A far scattare il relais via software dello Shelly. Io di fatto l'ho già integrato. Quindi device, Shelly... Forse è questo che non l'ha rinominato. Infatti, non l'ha rinominato. Rinominiamolo. Ho rinominato l'entità, ma non l'ho rinominato... No, in realtà è rinominato anche questo. Perché non l'ha rinominato? Ah, perché l'ha rinominata anche qua. Ho rinominato l'entità singola, ma non... Big Suka Filter... Big Suka Filter Allarme. Ok, e ce l'abbiamo qua. In realtà ci dà anche lo switch legia zero e il power zero. Che a noi frega pochissimo. No, in realtà frega niente. Infatti, possiamo fare anche una cosa. Vi faccio vedere come fare una cosa in home assistant quando avete troppe entità e non vi servono. Ormai ho messo dentro quello. Non lo sostituirò con uno Shelly 1 perché non ho voglia di rinominare, rinserirlo e rompermi. È un 1PM. È lì dentro. È un po'... È un pelo overkill, però chi se ne frega. Se avete delle entità che non vi servono e lo Shelly 1 ne ha tante Shelly 1 più ne ha tante e il cloud che è disabilitato il restart, va bene, l'overvoltaggio, l'overpowering, tutto va bene, lasciamole pure quelle diagnostica. Queste se non volete trovare tra i coglioni, tra i sensori andate qua, andate nella rotellina e gli dite disabilita e quella è disabilita. Idem per questa. Queste sono disabilitate e ora non ve le trovate più tra i maroni in giro da nessuna parte. Se poi volete riabilitarle, potete sempre riabilitarle. Però almeno avete un po' di pulizia. Ora, qui ho il bottone. Se io l'accendo, in teoria, si deve accendere la spia. In teoria, sono fatti i collegamenti giusti. Se non prende fuoco è tutto. Se non cade il rosone. In teoria. Quell'interruttore lì in realtà però non si servirà mai. Si servirà solo come controllo. Cioè faremo un'azione, ma lo vediamo tra dieci minuti, che ha come trigger, cioè come grilletto a quando quell'interruttore si accende. Quando scatta il relè dello Shelly. E quando scatta il relè dello Shelly quando il pressor stato differenziale ci dice che c'è poca pressione. Ergo, il filtro è sporto. Da lì possiamo scattare un'assegnazione. Quel bottone lì io non so se c'è modo di nasconderlo perché se chiudo, se nascondo quell'entità lì non la riesco più a beccare neanche per le azioni perché di fatto è disabilitata. Magari è solo una questione di dashboard e di interfaccia in cui lo uso come riferimento di stato ma non come bottone fisico. In ogni modo, proviamo a vedere se funziona. Si gira la camera. Instagram non funziona di certo. Ok. Quindi i collegamenti sono giusti. Ora in teoria l'ultima prova. Ultima prova che però non è significativa. Nel senso io non sono sicuro di quello che ho detto. Non mi ricordo. Però proviamo ad accendere. Tra l'altro succhiera via anche l'anima. Infatti non mi risulta scatto. Infatti non scatta. Però mi sembra strano. Non sono sicurissimo di questo perché io ricordo che se lo accendevo lui o forse... I collegamenti sono abbastanza sicuro anche perché ormai ne ho collegati mille. I due cavi che arrivano dal presostato che fa da interruttore e basta. Uno va in SV come giusto che sia perché allo zero va invece questo. Uno va a SV e l'altro va a linea. Al di là dei colori. Che colori sono questi? Ma non li decido io perché sono quelli che passano da qua. Quindi secondo me è un problema di pressione. Io ricordo che l'ultima volta che l'ho visto acceso quando l'ho avviato senza attaccato niente. Però non era pulito. Quindi magari dava differenza perché era sporco. Ora mi chiedo. Io questa roba però ho bisogno di simularla. Cioè ho bisogno di fare questo test. Prima di chiudere tutto. Perché sennò potrebbe non andarmi mai in allarme se è sbagliato qualcosa. Quindi devo verificarla. Come la verifico? Cioè abbasso o alzo questo? Non so neanche se dov'è. Allora adesso è piazzato tra 1500 e 2000. Differenziale 200 pi. Ok. Come simuliamo sta roba? Cioè devo abbassarlo tutto? Ma verrà che se lo abbasso o lo alzo tutto non è che faccio danni eh. E lo accendo. Perché è necessario assolutamente simulare questa roba qua. Cioè se non si mudiamo questa roba qua potrebbe esserci qualcosa che non va come Dio comanda. E quindi non va bene. E niente. Stolgo il coperchietto a quello e cerco di capire se riusciamo a ricavare abbastanza differenziali di pressione. Tra sotto e sopra. Magari poi anche al minimo non basta. Ok. Era più facile farlo che dirlo. L'ho portato a 500 quindi c'è una differenza minima. Se io lo accendo è che va in allarme e qua me lo ritrovo scattato. Quando spengo non aspira più. Quello si spegne e qua me lo trovo spento. Win win. Due su due. Riportiamo il presosto con la misura giusta. Quindi ecco se volessimo digitalizzarlo sappiamo che deve stare tra 1500 e 1750 per intenderci. Interessante questa cosa. Ora? Sì in effetti quello che dice Fabio era giusto. Sarebbe bastato anche solo tappare il buco. Possiamo anche fare la prova. Se ho qualche cosa abbastanza grosso da mettergli contro. da tapparlo ulteriormente perché di fatto se lo tappo in teoria. Lui va in allarme. C'è la prova come dice Fabio però a noi interessava che funzionasse la cosa. No Fabio se tappo il buco no. Perché la pressione non c'entra con l'esterno. Mamma mia. No tappare il buco non è una soluzione Fabio. Sorry. Allora ragazzi. Allora abbiamo portato a casa due su due. Quindi prima adesso mi prendo un momento di audio festeggiamento. E faccio anche. La flexo anche. Elettricista sfasato posso venire a lavorare con te? Cioè è vero mi hanno dato una mano. Però non avrei mai messo assieme sta roba. Due mesi fa. Tra un po' abbiamo anche il furgone dello stesso colore. Il mio è più nuovo. Però abbiamo il furgone dello stesso colore. Un gran risultato. Cioè io sono soddisfatto cazzo. Due su tre. Adesso vediamo il terzo di portarlo a casa. Non proprio adesso. Allora mi sparo un caffè. Ricarico un po' il cellulare che è scarico. Questa roba andrà risolta anche questa. Ma non si può fare con la domotica. E poi cerchiamo di capire cosa fare. Perché secondo me... Mi faccio che? Secondo me mi faccio il caffè. Perché c'è tutto sto delirio. Quella roba lì può essere chiusa intanto nel frattempo. Almeno per oggi fino a domani. Allora ho ricaricato il cellulare e... Le sigarette. È ricaricato io. Adesso. Prima di fare il punto rispondo a una domanda fatta più e più più volte. Qui ho risposto solo in privato. Qualcuno di voi... Io mi dimentico sempre che mi seguite. E mi seguite anche fin troppo attentamente da sapere tutti i cazzini. Mi ne ho dimenticato davvero l'ho fatto vedere più caldo. Un po' di tempo fa avevo fatto un sistema che trasformava il sacco singolo in quattro sacchi. Ora non l'avete più visto e in tanti mi avete chiesto come mai se ritornerò più a quello oppure no. No. Allora quello l'ho abolito. In realtà c'è ancora di là i pezzi. Anzi li portiamo di qua. Così li smantelliamo. Eccolo qua. Avevo fatto praticamente questo sistema con delle guarnizioni. C'erano anche le calamite. Ok. Che serviva ad infilare quattro sacchi normali all'interno di... Al posto del sacco singolo. Proprio per il discorso che vi ho fatto l'altro giorno. Dello smaltimento. Perché alla fine smaltisco tutti nei sacchi singoli e quindi devo fare tutte le volte il trasferimento come vi posso fare. Non l'ho più... L'ho smantellato per una serie di motivi. Ho capito che quattro sacchi erano troppi. Perché la segatura si infilava perfettamente ma poi sotto il sacco si allargava e poi toglierlo era un problema. Rimanevano tutti attaccati. I sacchi del comune poi hanno tipo la consistenza dell'ostia santa e quindi si disfavano completamente. Avevo pensato di rimetterlo ma con l'idea che facciamo il sensore di profondità non lo rimetto. È molto più importante per me sapere la capienza del sacco... Del sacco... Del sacco... Piuttosto che averne quattro comune da splittare. Tanto il lavoro che mi avete visto fare... Cioè... Quello che vorrei... Che voi teneste a mente ragazzi è che per quanto sia attrezzato così... Io non sono un falegname. Non lo faccio di professione. Non tutti i giorni taglio. Non tutti i giorni... Non tutte le settimane riempio il sacco. E quindi se una volta ogni due o tre mesi o una volta al mese in caso di lavori grossi mi capita di svuotare con la mano... Per me è accettabile. Si può fare. Ma non ho una produzione tale da far sì che quello mi rompa le valle. E se al momento poi non posso farlo perché sono dietro un lavoro... Tolgo il sacco, ne rimetto un altro e poi lo svuoto dopo. Non è un problema. Quindi niente quattro sacchi. Lasciamolo così. A proposito di sacchi. Vi accennavo prima che c'era un'altra modifica che mi sarebbe piaciuto fare... Ma che ci stavo ancora pensando. Una modifica hardware che riguarda il fatto di vedere la capienza. Ora, per come hanno strutturato le cose alla Felder... Non in maniera secondo me intelligente. Sui modelli più grandi è possibile invertire il senso di inserimento del cestello. Questo si inserisce così. Sul modello 160 si può girare le guide e inserire di qua. Di qua non si può. Anche perché come avete visto qua c'è il pistambrillo. Allora cosa ho pensato bene? Di fare una finestra solo da questo lato. Finestra che devo dire che non serva granché se non proprio quando sei già oltre il pieno. Ci dà il livello di massimo, ma non serve. La mia idea sinceramente era... Dato che io per come ce l'ho montato di là questa finestra è nascosta... Fare lo stesso lavoro che è stato fatto qua. Cioè aprire, fare un'apertura e poi incollare dietro un plexi anche da questo lato. Magari anche per tutta questa altezza qua. Alla fine ho deciso di non farlo perché cambieremo le carte in tavola anche come posizionamento. Che bordello c'ho qua. Anche come posizionamento. Perché se vi ricordate io avevo fatto tutto un ragionamento piuttosto inutile, devo essere sincero. Per metterlo lì in modo tale che non si vedesse appena entrato uno vedesse l'aspiratore. In realtà o a vedere il bidet di Anna o a vedere l'aspiratore è uguale per cui tanto vale. Mi conviene girare le cose. O comunque se anche decidessi di lasciarle così non è un gran problema. Non vado ad aprire il cestello con un'apertura con dietro il plexus perché è una modifica piuttosto pesante. E non mi dà fiducia alla solidità del cestello dopo. Quindi questa modifica qua no. Avremo il sensore, misureremo. Sarebbe buono avere anche qualcosa a vista. Nel caso il sensore non funzioni. Ma sul sensore poi ce ne occupiamo quando è il momento. Però per quanto mi sarebbe piaciuto aprire qua per tutta l'altezza una finestra per come è fatto preferirei di no. Quindi a posto così. Ora facciamo il punto. Ne abbiamo portate a casa due su tre. Ci manca il sensore. Ho il sensore ma non ho l'XP32. L'XP32 posso sostituirlo. Potrei sostituirlo per fare le prove banalmente con un Arduino. Però ho dato un'occhiata. Se faccio la programmazione come per Arduino. Poi non posso prendere, copiare, incollare tutta la programmazione del sensore e sbatterla sull'XP. Perché l'XP32 deve passare per forza da Home Assistant. Quindi è un'operazione un po' inutile da fare in questo momento. Io quello che farei adesso è mi accontenterei di questo risultato. Lascerei qua tutto questo bellissimo devasto e inizierei a farmi l'interfaccia ragazzi. Questo lo lascio direttamente attaccato. Questo lo lascio attaccato così almeno se devo fare le prove di attaccare lo Shelly per farlo andare in allarme e vedere come funzionano le azioni. Posso farlo. Mi metto a disegnare l'interfaccia finendo quella che ho iniziato stanotte che è quella del rack. L'hardware lasciamolo stare. In tutta sincerità ragazzi per quello che abbiamo fatto in questi due giorni e mezzo perché questo è stato occupato. Abbiamo già portato a casa tanto secondo me perché abbiamo già portato a casa tanto. Soprattutto abbiamo portato a casa le cose che mi preoccupavano. Due cose mi preoccupavano molto. La prima era la serie di automazione del Bixuca e ci siamo al 75%. Manca l'ultima. Però l'ultima è anche opzionale. Perché non ce l'ho avuta fino adesso e non è che mi serva. Però vediamo di fare anche quella. E l'altra le saracinesche. Le saracinesche vi dico subito che non sarà un lavoro che iniziamo e finiamo con la domotica. È un lavoro molto lungo. Mi sono messo in testa di fare una roba molto complicata. L'ingegnerizzazione di questa roba qua perché funzioni, perché sistemi, perché mi dia tutto quello che voglio. Segnalazione luminosa e tutto. Attuazione e tutto. Richiede parecchia progettazione e parecchie prove di stampa che non vi porto nello show perché sennò a me vedete il computer tutto il tempo. Quando l'avremo ottenuto e le metterò su, ne faremo una e poi le integriremo in Home Assistant che in realtà è il lato pirla di quel lavoro lì. Perché di quel lavoro lì è il lato stupido. Per tutto il resto non ho grosse incognite. Domani arriva una valanga di roba perché arrivano tutti gli shell, arriva l'elettrovalvola per il compressore, quindi anche quello si inizia e si chiude. E piano piano ci può andare avanti. Mancano ancora i sensori di movimento e i sensori di presenza che non mi sono chiarito quali. Uno di voi mi ha suggerito uno che si integra in maniera nativa in Home Assistant, una rarità, è su Aliexpress, devo ancora studiarlo bene. Però potrebbe anche essere quello il definitivo. Però li vediamo. Interfaccia ragazzi, se no ho in giro mille sensori. Parto da quella là, se ho qualcosa da farvi vedere, ci aggiorniamo più tardi e ve lo faccio vedere. Sicuramente prima di stasera riesco a finire almeno almeno quella del rack di filamenti che di fatto è quasi finita. Lì ci vuole pazienza perché devo disegnare tutti i vari pezzi. E il casino di disegnare i pezzi è disegnarli. Nel senso, ho dato un'impronta a uno stile con i disegni della bambù, dell'AMS, delle stampanti. Adesso tutto devo avere quello stile. Non è che poi, ovviamente, compare una roba che non è in assonometria, che poi è una assonometria con prospettiori. Non è una prospettoria a due fuochi o... Devo fare tutto uniformato uguale, come colore. Per cui c'è un po' di grafica e un po' di programmazione. E ragazzi, nel dettaglio, non vedo l'ora di iniziare l'assistente vocale. Però devo avere prima tutto il resto. Allora, aggiornamentino veloce perché poi è tardi e mi perdo. Sto facendo la card del filament rack. Quello che era tutto questo di qua si sta traducendo in quello. Ora, un sacco di roba da sistemare, un sacco di dettagli. Mi state chiedendo in tantissimi... Lo stile è ancora questo. Mi state chiedendo in tantissimi... Di... Spiegarvi come fare questa roba qua. Ragazzi, non è che non è facile da fare. No, non è facile da fare. Però non sono buono io a spiegarvelo. Cioè, ci sono un sacco di passaggi, un sacco di roba. E poi molte cose io le do per scontate. Da programmatore. Per cui non riesco a spiegarvi. Cioè, il fatto che dovete prima... Queste card qua... Non sono buono a spiegarvi sta roba. Cioè, vorrei... Io l'ho sempre detto. Le cose le so fare e non le so spiegare. Per questo non faccio il tutorial. Ci sono delle card che sono... Di Defoe, ok? E le andate a prendere semplicemente... Quando aggiungete una card... Vi propone... Eccole qua. Le card quelle di Defoe. L'entità di Defoe. L'igrostato. La luce. Ste balle qua. Ci sono card personalizzate come queste. Che fanno parte di librie. E poi card come queste qua. Che sono stra personalizzate. In questo caso è la seconda. No. La terza. Questa qua. Che è fatta... Da me. Cioè, c'è un'entità immagine. Gli do il link dell'immagine che io mi sono... Che io mi sono disegnato prima. Poi ve l'ho portata in Photoshop. L'ho colorata giusta. E poi vado a prendere il sensore del filament rack. Lo metto qua in un bollo. Non sono buono a spiegarvi sta roba, ragazzi. Non ci posso fare niente. Cioè, dovrei veramente partire dall'alba dei tempi. A spiegarvi tutti i dettagli di cosa vuol dire programmare. Cos'è un'entità. Cos'è tutto. Per cui questa parte qua mi spiace. Ma ve la condivido. Esis com'è. Ora, questa card qua non è perfetta. Non è finita. Soprattutto è la prima card che va fuori scheda. Perché sarà insieme a delle altre. Devo capire se serve la separazione. Il colore di questo. Un po' di roba. Continuo a lavorarci in silenzio. Noi intanto ci vediamo domani. Che arriva tutto il resto. E se Dio ce la manda buona. Domani c'è una buona dose di programmazione. Paolona è già sclerato con gli SP. Domani ci sclero anch'io. Dai. Mi piacerebbe vedere il sensore. Comunque questa card qua era semplice. Quella del Big Suka sarà parecchio più complessa. Perché avrà anche le animazioni. Che non ho mai fatto. Dai. Ci vediamo domani. Portate pazienza. Ma non sono proprio capace di spiegare. Cioè, foste qui di persona ci riuscirei probabilmente. Così no. A domani. Buongiorno ragazzi. Allora, niente. Sto aspettando Amazon. Aspettando Amazon. Intanto sto davanti con le mie interfacce. Al di là dell'impronta generale della card generica del laboratorio. Sto facendo tutti i singoli pezzi. Alla fine non ho neanche iniziato quella del Big Suka. Mi sono impastato su quella del filament rack. Però. Però. Ho raggiunto un punto. Questa è la scheda semidefinitiva del filament rack. Ho tutto quello che mi serve. Rispetto a ieri l'ho accorciato. L'ho fatto più basso. Non serviva una rappresentazione reale dell'armadio. Ma solo far capire cos'è. Così tutto mi rimane in scala. Anche perché io avrò il monitor verticale. Però non è che posso fare robe lunghissime. Grafici. Temperatura umidità. L'igrostato. A che umidità è la soglia. On off. Che non si riferisce al fatto che è acceso o spento. Ma si riferisce al fatto se l'igrostato è attivato oppure no. E quando si accende. Perché non è più in umidità. Diventa rosso all'interno. Ora da video è un po' vibrante. In realtà il rosso è molto più neutro. Ecco. Magari così mette fuoco. Quando è spento invece va così. Se poi è spento del tutto l'igrostato. Dopo che l'ho staccato. Tutto diventa opaco. Esattamente. Come diventano. Come diventano queste. È un po' un bordello. Fare l'interfaccia. Non solo per una questione di sequenza. E le immagini. E il codice. E i componenti. E tutto. Ma perché io devo verificare i vari stati. Quindi devo continuare a accendere. Spegnere. Capire quando una roba dà in allarme. E si riesce a simulare il tutto. Ma la maggior parte delle volte. Accendo le robe. Poi avrò anche dei componenti standard. Tipo le luci del laboratorio. Ho solo dei componenti standard. Che accende e spegne. Le varie luci. Adesso qua c'è da aggiungere qualcosa. Che in realtà. Accende o spegne tutte le luci. Che è svincolato dal telecomando. Quindi. Questa cosa grafica. Si porta dietro una nuova automazione. È un po' un bordello. Comunque. Appena arriva il pacco Amazon. Sperando che non arrivi stasera. Finiamo il Vicksuka. O meglio. Finiamo. Diamo un occhio all'SP32. Come si programma. E a cercare di capire. Come regolare il sensore. Se poi va bene. Se poi si può usare. Se è lui. Non lo so. Però intanto io vado avanti qua. Che è uno sbatta. Amazon oggi ci fa soffrire. Non ha ancora consegnato. Però. Allora. Ho finito la scheda delle fila Merak. Ragazzi. Fa queste cose. Ci vuole una vita e mezza. Adesso mi convince. Più corretta graficamente. Più morbida. Grafici migliori. Grafici che ho riportato. Ho cambiato. L'estetica dei grafici. Sono un po' meno squadrati. Li ho riportati anche qua. Che stanno meglio. Ora. In teoria. Dovrei mettermi a disegnare questo. Dovrei mettermi a disegnare questo affare qua. Ma dopo. Non so quante mila. Mila ore davanti al computer. Non aprire le palle. Però. Almeno il fila Merak. È a posto. Oh. Di qua fa anche più fresco. Mamma mia. Allora. Direi che metto un po' a posto sto delirio. Metto un po' a posto sto bordello. E poi. Speriamo arrivi a Amazon. Tanto. Anche perché. Quando arriva Amazon. Qui si sarai. Sempre davanti al computer. Devo stare. Dobbiamo cercare di capire. Come fare quello affare lì. Abbiamo fatto un bel lavoro ieri ragazzi. È proprio un bel lavoro da una bomber. Fra l'altro ho scoperto. Una roba che non è proprio ottimale. Parlando sempre di Home Assistant. Allora. Le notifiche. A noi servono le notifiche. Servono le notifiche sul wall panel. Wall panel che. Sarà su questa parete qua. Wall panel di cui parleremo presto. Perché presto iniziamo a metterla. Siamo anche quello. Anche solo per agganciarlo. Iniziare a fare l'interfaccia generica. Perché io sto facendo tutti i pezzi. Poi c'è da fare l'interfaccia generale. E quella. Siccome è stata sempre gestita col culo. Da Home Assistant. Tanto vale farla direttamente. Sul monitor che si usa. Soprattutto nel mio caso. Dato che il monitor sarà verticale. Ho scoperto una cosa. Home Assistant. Alla dashboard si accede. O attraverso le companion app. Ok. Che ci sono per iPhone. Per Android. Per Mac. E basta. Oppure attraverso un browser qualsiasi. Il vantaggio di usare le companion app. Come vi avevo già detto. Quando abbiamo fatto la sala affianza. È il poter leggere i sensori. Del device su cui è installato. Quindi potendo leggere i sensori del device. Puoi fare tutta una serie di automazioni. Come carica e scarica della batteria. E robe del genere. In alcuni casi anche accesso alla telecamera. In modo tale che il monitor rimanga spento. Fino a quando non si passa davanti la telecamera. Per questa installazione qua. Non avendo bisogno di toccare nessun sensore. Nel mio immaginario. C'era dietro una roba qualsiasi. C'era dietro un Raspberry. Con aperto un browser. O un mini PC. Con aperto un browser. Peccato. Che lì. Su quel wall panel lì. A noi servono le notifiche. A noi servono le notifiche. Io non posso. Cioè. Mi faccio arrivare anche le notifiche sul cellulare. Notifiche di fine stampa. Errore di stampa. Allarme del Big Suka. Tutte ste robe qua. Però il cellulare è sempre occupato. Per fare le storie. Per montare i video. Per fare le robe. Quindi. Lì ci servono le notifiche. Peccato che le notifiche arrivano solo. Se si installa una companion app. E la companion app. Non è disponibile. Né per Windows. Né per Raspberry. In realtà a Raspberry c'è una cosa. Ma non è ufficiale. Per cui fa schifo. Quindi. Questo è un lavoro. Che portare dietro un altro lavoro. Siccome io ho attaccato al laser. Ho il Mac Mini. Usato per far rannare. Il programma del laser. Con su. Emulato Windows. E funziona una merda. Perché il Mac Mini è vecchio. Il Mac Mini. Doveva andare qua sul wall panel. Da usare solo. Con la companion app. Sperando che funzioni bene. E di là bisogna mettere un mini PC. C'è il doppio giro da fare. C'è sempre da spostare qualcosa. In realtà. Se arrivasse Amazon. Potremmo fare un sacco di roba. Perché abbiamo un sacco di celli. Abbiamo. Già il sensore del. Il. La valvola. Del. Del. Compressore. Mi metto a mettere un po' a posto. E andiamo. Spero arrivi presto. Perché stasera ho un aperitivo. Sono già le 2.20. Non volevo buttare il cesto la giornata. Andrea mi fa la domanda. Così approfittiamo anche di rispondere a lui. E per fare un'altra cosa. Andrea mi chiede. Come ho generato le immagini di Home Assistant. Le ho disegnate ragazzi. Cioè. In vettoriale. Si disegna in vettoriale. O in Photoshop. Ma potete anche scaricarle da internet. Se vi piacciono quelle che trovate. Sono dei PNG o dei JPEG. Io. Siccome le disegno da zero. Le disegno in vettoriale. Non ho un modo per tradurvi l'espressione. Disegno in vettoriale. Cioè. Non so proprio come dirvelo. Chi non sa cos'è il disegno in vettoriale. Non saprei proprio come spiegarvelo. Si disegnano. È esattamente come fare un'illustrazione a mano. Cioè si parte dal foglio bianco. In quel caso è un documento. E poi si va a disegnare. Linea, punto, linea, punto. La compone tutta. Cioè. Quello è. Quando dico le disegno. Intendo dire proprio le disegno. Da zero. Cioè. Da nulla. Poi ovviamente ho una traccia. Nel caso del Big Suka. Sarà la foto. Che ricopierò come traccia. Poi adatterò quello che ho bisogno. Togliendo e mettendo gli elementi. A seconda di quanti dettagli voglio inserire. Però. Di fatto. Si disegnano da zero. Non è che obbligatorio. Io le disegno da zero. Potrei scaricare anche un'immagine da Inter. L'immagine che ho fatto di vedere il Big Suka. Volendo. Io potrei sbattere in un'assistante così. Poi io non le tamaio. Perché tutte le immagini sono diverse. Però si può fare anche così. Vi lascio un box per le domande. Su. Domotica in generale. In attesa di Amazon. Tanto io devo mettere a posto. Quindi se avete domande. Io rispondo. Allora. Eccoci. Amazon ha consegnato. Iniziamo. Iniziamo con. Con questa nuova bestemmia. Che non ho la più pallida di come fare. Cosa ha consegnato. Shelly 1. Quattro confezioni da due. Non ho preso gli Shelly. Due e mezzo. Perché. Di fatto. Uno ce l'ho. Mi serve per questa. Tutto il resto. Può essere fatto con gli Shelly 1. Che costano. Due Shelly 1. Costavano meno. Che uno Shelly 1. E mezzo. Poi. Due board. SP32. E una la vediamo subito. Dei cavi. Di collegamento. E. La valvola per il compressore. Normalmente chiusa. Questa. Dovrebbe essere abbastanza stupida. Da sistemare. Perché. Ripeto. È normalmente chiusa. Quando riceve corrente. Si apre. E poi si richiude. Non è fatta per andare. Per lungo tempo. Per stare aperta. Per tanto tempo. Non è. Una valvola di irrigazione. È fatta per essere aperta. Pochi secondi. Per cui. Cercheremo di. Di capire. Come far andare il compressore. Soprattutto. Se farlo. A compressore spento. Quindi. Compressione. Ma a compressore spento. Aprire. Un ragionevole lasso di tempo. In modo tale. Che esca un po' d'aria. E riesca anche la condensa. Che poi di fatto. Quella è una routine. Che facciamo andare ogni tanto. Ma anche se va anche tutti i giorni. Non è un problema. Oppure dobbiamo farlo a compressore acceso. Oppure è spento. Scarica. Poi si riaccende. Quelli sono automatismi. E lo vediamo poi. Il più sarà riuscire ad agganciarla sotto. E fare lo scarico in doccia. Biksuka. Vediamo di mettere assieme. Sto sensore di distanza. E di profondità. Che poi in realtà. È solo di distanza. Io. Il sensore ce l'ho già. Ne ho di due tipi. Questo tipo è quello di cui ho trovato il tutorial. Ho la basetta. L'incognita qual è? Mi servirà indubbiamente anche una di queste. Se la trovo. Una di questi a fare qua. Dovrei averne una anche piccolina. L'incognita qual è? Io ovviamente seguirò un tutorial. Non li faccio. Ma li seguo. Ma li seguo. C'è la variante che è Home Assistant. Qui. Quando si usa Home Assistant. In realtà. Non si programma più. L'ESP. Con l'interfaccia dell'arduino. Si passa tutto da Home Assistant. Direttamente. Allora. L'ESP32 è una programmazione. Che non ho mai fatto. Paolo. Mi ha messo a terrorismo psicologico. Nel senso che lui ci ha provato. E ha fatto la fatica della madonna. Devo. Prima di tutto. Cercare di capire. Come. Interfacciarlo. Cioè. Non l'ho proprio mai. Mai. Mai usato. Quindi. Ci saranno. Spero. Una decina di minuti di svanettamento. Ma non oltre. Inizio ad appuntare le cose. Poi. Quello che dovremmo ottenere. Il risultato. Che dobbiamo puntare ad ottenere. È. Per adesso. Che lo faccio a banco. Il calcolo della distanza. Che è. Una formula. Ben precisa. In base al ritorno di velocità. Del segnale del sensore. Una volta che l'abbiamo fatto a banco. Possiamo pensare di metterlo dentro. Dopo. L'interfaccia. E il fatto che ci restituisca. Una percentuale di riempimento. Sul ca. È un altro discorso. Il fatto che ci restituisci. Il fatto che ci restituisci. Siamo un altro discorso. allora in realtà ho avuto qualche problema dovuto al fatto che forse è meglio controllarli i cavi ecco ci ho messo un po installa sopra il firme perché home assistant attraverso sp home va praticamente a scrivere un firmware a flashare il firmware dell'esp installando sopra la versione sp home così che home assistant poi possa leggerlo quindi deve fare tutto il reset non mi faceva il reset perché non mi ero accorto che il cavo appena lo toccavo dentro smattava saltava una volta fatta questa parte che ci mette un attimo se avete il cavo giusto parte parte che va fatta per forza collegando o le spie al computer su cui rannate la dashboard e quindi procedere via browser oppure sarebbe meglio le spie attaccato direttamente al server dove fate rannare home assistant però nel mio caso non ce lo voglio andare lo sgabuzzino l'ho fatto qua una volta fatta questa parte potete anche benissimo staccarlo alimentarlo a parte e dopo ci dialogate semplicemente via wifi infatti via wireless io rilevo se non vi faccio vedere i dati che ci sono i dati della mia rete compreso lì più pubblico quindi una volta che avete fatto questo primo passaggio poi vi interfacciate con lui direttamente è che sembra un tutorial perché dico vi interfacciate vi potrete interfacciare con lui direttamente via wifi e vi ritrovate poi ovviamente anche come device all'interno del di home assistant perché questi sono gli spi gestiti con espiom ma se io vado nei miei setting nei device lui ha scoperto subito il bixuca filling lever sensor che è questo qua che ovviamente adesso non ha nessun tipo di sensore è solamente un device perché è tutto staccato ora devo cercare di capire come programmare sta roba cioè nel senso riesco a programmarla direttamente da home assistant forse sì attraverso espiom sì forse sì direttamente attraverso espiom dovrei potere dovrei poter programmarlo direttamente qua in questo che sembra uno yalm a dire la verità quindi forse si può fare così devo prima capire i collegamenti però l'integrazione paolone non è stata così complicata per cui c'era qualcosa che non andava nel tuo caso forse il raspberry non aveva abbastanza potenza in realtà è stato un gioco da ragazzi la cosa più difficile è stato leggere la piedinatura perché sarà che vado per i 40 ma io cioè vado per i 40 vado anche per i 45 ma io quelle scritte lì cazzo potevo ingrandirle con la telecamera adesso le leggo la cosa più grande è stata questa però in realtà è facile non vi faccio un tutorial vi spiego però come si fa più o meno in realtà in realtà anziché passare dall'idea di arduino oppure andare verso visual basic visual studio qualcos'altro si fa tutto all'interno di di home assistant cioè in espiom una volta che avete importato il vostro device che non ha collegato niente attaccate il vostro sensore fate edite edita avete il testo del ti ciò che c'è dentro c'è del programma scritto dentro ora il mio è molto stupido perché in realtà importa ha attaccato un solo sensore solo sensore che è questo ok che è il sensore ultrasonico una volta che avete scritto platform ultrasoniche e le platform cioè quali sono le trovate tutti direttamente nella donna di espiom voi andate a leggere la documentazione via un'altra pagina e avete tutti i sensori compatibili con le spiegazioni non vi serve leggere qua la spiegazione non vi serve più di tanto qua perché voi qua trovate tutto però per esempio se riesco a ritrovarlo cioè questi sono tutti i sensori compatibili poi ce ne sono sicuramente anche altre però allora ultra ultrasonico questo è esattamente il nostro sensore se io clicco su questo mi dice esattamente come deve essere ecco questa cosa è da automatizzare con home assistant che quello non si accende mentre sto registrando ti dice esattamente come è fatta la la sua la sua grammatica come sono fatte le variabili quindi una volta importate di una volta di qua editate scrivete dentro e poi se avete dei dubbi ci sono anche le istruzioni che compaiono sopra praticamente gli ho detto che il trigger pin è sul 22 l'eco pin è sul 23 e lì è stato il casino di leggere quelli gli ho dato un nome ultrasonic sensor ok generico così che non va bene che non è il nome del device ma il nome della singola entità anche questo qua dovete considerarlo proprio come uno shelly che al suo interno ha tutte le singole entità quella dell'aggiornamento firmware quella del consumo quella del relè poi gli ho dato anche un update intervall di 5 secondi giusto per fare la prova ora e un pulse time cioè l'impulso che lui emette di 10 us non so cosa siano però se vuoi fare se io non so cosa sia guardato qua e lui mi dà le istruzioni mi dice esattamente le variabili anche poi 10 in realtà è il default e vabbè io ho dato anche un time out nel caso ad errore col time out io posso gestire se lui va offline perché se mi va in time out posso fare una notifica per offline al di là di questo una volta fatto sto lavoro qua installate una volta che avete installato per sicurezza andata a vedere i log e siccome lui è continuous running cioè lui continua a runnare sempre lo stesso codice se io mi collego a lui uguale se guardo il log vedete che ogni cinque secondi lui ci restituisce la distanza in metri ok che è sempre uguale perché siamo io ho messo davanti quello ora vediamo di fare una misurazione però al di là di quello che succede nei log che ce ne frega poco adesso se io in device vado in sp home e tiro fuori il mio big su ca feeling level ho qua il mio ultrasonic sensor eccolo qua che ha rilevato esattamente che è alla distanza di 0 11 metri se io questo qua lo allontano se io questo qua lo allontano qua adesso non so perché quello è un po inclinato diventano 27 0 27 metri ora tutto il lavoro è prima ancora in realtà no cioè il lavoro dovrebbe essere metterlo dentro e poi fare due due misurazioni una al minimo una al massimo per poi settare io la mia interfaccia perché la mia interfaccia dovrebbe tradurre quello in un sistema a percentuale cioè se io so che il punto massimo è 80 centimetri io poi devo tradurre in interfaccia 80 centimetri è vuoto è 0 per cento il minimo lo decido io quel punto così non aspetto neanche che si riempia e poi puoi impostare le soglie però è stato una cazzata è stata veramente una cazzata farlo adesso l'unica prima di smattare l'unica cosa che devo verificare che la misura sia giusta quindi adesso gli diamo una una distanza e poi qua sarebbe bello se questo fosse esposto in centimetri però questa mi sa che è una modifica che si può fare direttamente qua no in realtà no qua si stabilisce solamente il precision display il precision la conversione non la fai in automatico per fare la conversione da metri da centimetri a metri devo farmi un helper che poi va a scrivere su questa vabbè non importa adesso proviamo a metterla a una distanza sicura sono sinceramente stupefatto 20 centimetri 20 centimetri 21 centimetri 21 centimetri 23 centimetri ragazzi è in diretta vabbè ho un aggiornamento fotonico ovviamente 40 è qualcosa è questo già meno 40 perfetto ovviamente non è preciso al millesimo anche perché forse non gli ho dato adesso a noi i centimetri bastano e avanzano però volendo potremmo dargli anche più più dettaglio però funziona si funziona funziona adesso non servirà un aggiornamento ogni cinque secondi ovviamente per il biksuka perché non è che ogni 5 secondi si riempie però vediamo ora sto cercando di capire una cosa primo cosa devo fare non stamperò qualcosa in 3d per metterlo dentro perché io queste scatolette qua consigliate dal buon fab the common man che sono stagne cioè adesso non la apro ma dentro hanno anche la guarnizione che sono perfette per andare lì dentro quindi faremo due fori faremo spuntare fuori questi qua dato che tanto di un rally flash metteremo tutto dentro e uscirà il cavo e questa andrà dentro poi sto ragionando a voce alta per capire se il passaggio è giusto poi lo attacco sotto al punto che devo attaccarlo rimettiamo dentro il bidone gli facciamo misurare e sappiamo la misura che è il vuoto centimetro più centimetro meno sappiamo la marcatura che è il vuoto perché noi non abbiamo un valore di vuoto assoluto abbiamo una distanza dopodiché a quel punto dopodiché a quel punto dobbiamo togliere il cestello e decidere noi quant'è il pieno cioè dove vogliamo che arrivi prima che lui mi dica che è pieno sì perché devo deciderlo io cioè avvicinando qualcosa il più possibile il livello del sacco eh sì è il livello del sacco devo infrapporre qualcosa lì so la distanza mettiamo che sia 20 cm so che 20 è il mio minimo e mettiamo 100 è il mio massimo così funziona però dato che è stato così facile che ora sono ah in descrizione sono le 5 e mezza però siamo in timing poi ho detto che va chiuso per il weekend dato che è stato così facile perché non complichiamo un po' le cose cioè perché tipo dato che ho una marea di pezzi a cazzo buffo non ci mettiamo anche uno schermo che ci faccia vedere tanto ne ho ne ho circa proprio due di schermi perché non c'è questo qua non è saldato questi qua hanno già le saldature perché non mettiamo anche uno schermo che ci dica la percentuale di riempimento e lo facciamo comparire lì sopra così io in realtà ho una rappresentazione neanche ho la dashboard lì ma anche qua perché se io qua che mi esce dalla scatoletta c'ho uno schermo che mi dice quanto è pieno non è male secondo me cosa ne dite si può fare certo bisognerà farglielo tradurre quindi forse prima bisogna misurare no in realtà tutto dipende da una cosa io ho eh no non non penso si possa fare non penso si possa fare perché io ho dentro un cavo a quattro contatti ho passato un cavo a quattro contatti e quattro sono già totalmente occupati tutte quattro sono occupati e qui no e poi che cosa serve serve ma cazzo però cazzo funziona ragazzi funziona di brutto 25 centimetri 25 è istantaneo eh cioè sposto 17 17 ma la misura minima qual è 2 centimetri porca vacca se è preciso paulone io spero che tu stasera all'aperitivo non mi avveleni so coniugati i verbi un po' così solo perché ci sono riuscito in 40 secondi netti rispetto a te che bestimi da una settimana e mezza no lo schermo non serve a niente metodo ragazzi è inutile però questi espi mi piacciono proprio mi piacciono proprio per le saracinesche saranno perfetti ragazzi perché per le saracinesche saranno perfetti perché avremo il motore attaccato il led di stato della saracinesca e la notizia tanta roba tanta vediamo di inserirlo nella scatolina dai vediamo di arrivare a fare la misurazione prima che vada a ubriacarmi all'aperitivo mentre mangio le caramelle mi sono dimenticato che avevo fatto il box delle domande questo è favore come me lo diciamo che collegare le luci ad alexa o google non è domotica diciamolo chi collega le luci ad alexa o google è un figlio della merda gennale chiede per la rete zb è quindi possibile integrare questi dispositivi di giugna protocollo si è una rete zb deve avere ovviamente come assistant la don per zb un coordinator che è un'antenna sul direttamente collegata al server su cui gira home assistant e nel mio caso nello spazio un po grande qualche ripetitore quella però dopo qualsiasi dispositivo si può connettere in realtà nell'ultima versione hanno perfezionato anche matter che è l'altro protocollo però io dispositivi non ho visti così tanti in giro penso ci voglio un'antenna anche per quello bressel comunque un nome strano chiede somma assistant parla con knx la knx dovrebbe essere il protocollo industriale domotica industriale in realtà parla con tutto ci sono i convertitori però te lo devi programmare tu c'è un addon che ti anche lì ti un po ti ti rende disponibile il coordinator che attacchi ma il dialogo deve scriverlo tu Matteo invece mi dice mi dà un'informazione che aveva visto che o massenza supporta anche le notifiche che funzionano su chrome vuoi se può essere interessante vale la pena indagarlo non penso però che supporti le notifiche con immagine perché per esempio per la stampante l'automazione sono tivi voglio fare quando hai finito di fare di stampare scatta una foto con la telecamera o rileva l'ultimo frame e mandalo insieme alla notifica così se sono fuori io vedo se la stampa è venuta non è venuta quindi non so se le notifiche chrome supportano anche le immagini j miglio mi chiede se domotizzerò anche anna se io riuscissi a domotizzare anna parte che penso che diventerai miliardario condividendo un codice del genere non tanto per anna quanto per la prova ognuno la sua anna però avete idea quanti soldi fa a domotizzare una roba del genere non domotizzerò anna è praticamente impossibile ci sono troppi troppi bug da sistemare allora no lo schermo da attaccare un casino e da attaccare soprattutto c'è un casino soprattutto poi configurarlo perché mostri qualcosa però potremmo ma non so se è necessario attaccare un tasto fisico che permette di avviare la pulizia dal biksuka c'è un bottone fisico che da lì fa avviare la pulizia che poi comunque passa sempre da home assistant cioè comunque tasto digitale perché collegato lì e poi rimanda di là non lo so è perché mi sembra un po uno spreco questo sp32 che fa solo questa funzione qua di monitoraggio solo attaccare gli altri due relai ormai ho già fatto quel circuito lì e mi sembra assurdo attaccare il sensore del filtro abbiamo detto che esce a 220 ed è un po un casino bisogna interporre qualcosa non lo so il bottone fisico può servire tutto sto lavoro qua sta andando un po troppo bene per i miei gusti questa è la scatoletta col sensore ora diamogli una vitata solo di vite senza neanche mettere la guarnizione allora prima di tutto da questo lato io penso che salderò il cavo anche perché non saprei come altro connetterlo quindi da questo lato diciamo che lo saldiamo e non c'è problema dall'altro lato invece tengo direttamente attaccata questa board qua e infilo dentro i pin che faccio prima si faccio prima fare così potrei tagliare questi e saldare questi al terminale del cavo in modo da inserirli dentro potrei fare così però vabbè al di là di questo che un attimo vediamo dove piazzarlo perché nei giorni scorsi che poi era solo ieri quando uno di voi mi ha dato faccio un'altra parentesi scusate su quel sito lì che è dentro un assistant la documentazione quando avete un sensore aprite se ce la fate la sua documentazione poi vi trovate tutto compreso i data sheet i data sheet di come sono fatti i sensori quindi non solo un ottimo listato per trovare sensori compatibili e ho già visto a dire la verità che ce ne sono anche lo dico tanto per lo dico giusto in caso ce ne sono anche di se scrivo giusto ci sono tutti quelli di pressione e temperatura di fatto io con questa roba qua comprando anche quelli più piccoli non avrei più di fatto neanche bisogno di comprare gli a cara e comprare tutti neanche quelli di movimento avrei bisogno di comprare perché io potrei fare addirittura un senso un sensore unico che fa che non c'è in commercio cioè che fa movimento presenza pressione temperatura e tutto racchiuso in un unico in realtà anche gli scelli hanno sotto SP poi ci hanno collegati i vari relay quindi quelli più comodi tenerle così anche perché lì passa l'elettricità ad alto voltaggio quindi è meglio avere le protezioni che hanno fatto loro però per tutti gli altri sensori in realtà si potrebbero fare benissimo e vedevo che tra quelli di pressione ci sono anche quelli se li saltate tutti pressione pressione umidità va bene pressione umidità assieme ci sono tutti quelli adesso non li trovo di pressione differenziale ci sono anche quelli per la pressione differenziale quelli magnetici roba roba varia tuya sensor che puoi addirittura attaccarli qua movimento eccoli qua termocoppia e poi sensori binari come il sensore per attaccare sensori di home assistant che va a leggere il cuore home assistant sensori capacitativi sensori rido nfc i touch screen il bluetooth ce ne sono tutti ragazzi il limite è solo la fantasia con questo affare qua potete comporvi tutti gli elementi che volete quindi ora come ora io ci attacco solo questo però si può fare di tutto dicevo prima che mi perdesse ancora due giorni fa quando mi chiedevo dove andare ad attaccare questi due di voi mi hanno dato un consiglio abbastanza intelligente io inizialmente ho detto no perché non avevo preso le misure però si potrebbe fare così dicevo mi avete consigliato di attaccarlo un filo sotto di attaccarlo direttamente qua cioè direttamente sul su questo cioè di attaccarlo direttamente su questo affare qua e secondo me non è una pessima idea non è proprio al centro però non è una pessima idea ora posso provare anche solo purtroppo questo non è piatto in nessun lato tranne che di qua che non è proprio al centro però attaccarlo a questo la parte fissa del pistone potrebbe essere intelligente perché non aggiungo di fatto nient'altro perché non posso metterlo storto che misuri deve stare zenitale il più possibile al centro del sacco quindi ora cerco di capire bene dove qua non è centralissimo però è abbastanza centrale diciamo che in realtà è un po troppo verso il foro che è la parte che siccome cade di qua la segatura si riempie di più più al centro sarebbe però per metterlo più al centro devo costruire qualcosa anche se in realtà non so di fatto sì se questo si muove perché ho problemi a muoverlo questo cioè nel senso se io lo attacco qua eccolo qua ok devo lasciare con questo l'attacco qua che è la parte che va avanti indietro del filtro se lo attacco qua lui va avanti indietro ma solo mentre si muove il filtro quindi mi darà una misura una lettura falsata solo mentre si sta muovendo il filtro a me cosa interessa l'importante è gestire il cavo che si allunghi che si accorci però di fatto io potrei anche benissimo metterlo qua sopra così agganciato qua così alla spazzola che sta al centissimo no c'è chi se ne frega se si muove davvero cosa me ne frega si muove ora vi ho risparmiato l'immagine di me sudato come un porco biancato di sotto a collegare tutto eccolo qua è dentro ed è tutto collegato ho già verificato che funziona alla fine per non bucare la scocca per non mettere un traverso di qua che avrebbe anche influito il flusso l'ho attaccato lì sulla parte che si muove però risulta essere perfettamente al centro come vedete si muove il che vuol dire che quando lui purerà il filtro per quei cinque minuti di pulizione filtro avremo una lettura errata perché lancia il raggio si sposta non lo becca a parte che è talmente lento che magari lo becca lo stesso però poco ci frega cioè mi frega pochissimo la rinuncia che sono disposto a fare piuttosto che mettere una barra per così e mettere una barra per così e bucare la scocca adesso di fatto noi abbiamo bisogno di due dati il minimo e il massimo e quindi lo facciamo così allora prima di tutto si apre il log si apre il log così almeno vediamo il log di tutto e lui inizia a leggere ok poi così lui inizia a leggere ogni cinque secondi va in continuo a leggere quello a fare lì poi il valore minimo che noi vogliamo è allora il sacco arriva qua facciamo che sia qua che è di fatto la fine sacco ok oltre so che ho ancora un po di margine se decidessi di non cambiarlo subito ma oltre per me è già troppo quindi lo svuoto quando è perfettamente qua perché si infila qua sto un attimino così così almeno il log registra e vado a leggere il log tanto ogni cinque secondi sta girando e il log ci ha detto 0,28 ok 244 284 287 285 ecco facciamo 285 e ce lo segniamo 285 in verità è uno 0,285 è il minimo ora il massimo per capire il 100% o meglio lo 0% vuoto si prende che sta a fare qua lo sbattiamo dentro che non corrisponde la terra perché c'è i piedini perché questo si alza lo sbatto dentro a questo lato qua controllo solo che di là ci sia eccolo questo devo riattaccarlo ok e ora dovrei ottenere il mio massimo che è sbagliato perché 0,391 non esiste che sia così così poco il divario da 0,284 a 0,287 cosa c'è 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 il sacco che rompe le palle è riflettente con la superficie lì ti appareva che non c'era qualcosa da rompere le palle mi sembra non mi sembra gli altri mi sembravano anche 20 centimetri questi ci stavano anche sì che più o meno sono 27 centimetri ma gli altri no questi no allora a dire la verità è sbagliato anche quando non ho dentro il carrello perché lì non ho 60 centimetri ma è un metro ora che ho rimesso dentro il carrello mi dà 64 però a me sembra totalmente sbagliato 64 perché tenendo conto che questo sono 60 quello è più su sta sbagliando di 20 centimetri allora a onore del vero a noi non ce ne frega assolutamente niente perché a noi non ce ne frega assolutamente niente a onore del vero una volta che abbiamo il minimo abbiamo il massimo il minimo è sempre ripetibile e il massimo è sempre ripetibile anche se il valore è sbagliato noi in realtà lo stiamo usando per determinare quando il sacco è pieno quando il sacco è vuoto non per misurare una distanza però sarebbe interessante capire perché perché vorrei capire perché cosa potrebbe essere perché la misura poi è sempre uguale è sempre 629 650 varia di poco potrebbe esserci il sacco è il sacco che non è piatto e quindi riflette quindi vuol dire che se io prendo un tocco di legno e glielo metto di piatto dentro il sacco che lo tiene giù in teoria mi dà una misurazione in teoria se io metto quello lì dentro e vado su in in teoria tecnica di speaking 394 no direi che sta sbarellando di brutto che io abbia invertito i contatti che io abbia invertito i contatti comunque la comunità degli espi è questa qua una volta che lì dentro io non devo tirarlo giù staccarlo attaccarlo al computer per rannare faccio le modifiche ranno sopra e basta lui carica e non ci penso più caricato l'ha caricato ok 0 63 adesso da un'altra misura ancora questa roba va studiata 0 72 0 78 78 70 mi ci sta 80 che cazzo sta facendo devo studiarla meglio devo devo capire cos'è però però direi che ci siamo la risposta di cosa c'è che non va arriva da paulone e arriva qua con questo messaggio qua quindi direi che il risultato portato a casa la taratura non ho guardato tutto eccitato da esserci riuscito non ho guardato c'è da fare la taratura ora io stacco tutto per non lasciarlo continuare a girare ogni cinque secondi che non è il caso e lo sardichiamo ok però ragazzi il big suca non dico che è finito ma almeno la parte larga è chiusa facciamo la taratura di quella roba lì che forse era il caso di farla tirata giù ma anche no la facciamo da giù da lì che non è un problema mi faccio spiegare adesso da paolo all'aperitivo come si tara gran bel lavoro dai sono molto soddisfatto soprattutto perché sono molto fuori dalla mia comfort zone questo non è software questo è hardware sono molto molto fuori e siamo entrati anche nell'era della dell'elettronica è proprio l'era del ferro che la rimbalzo continuamente direi che chiudo la giornata positiva con l'interfaccia del rack che mi soddisfa molto domani chiudiamo quello facciamo l'interfaccia di quello che bisognerà tradurre i metri in proporzione al riempimento e dargli una costruzione come si deve e poi vi lancio l'ultima cosa prima di andarmene ho pensato una roba su quello che stavo dicendo di prima perché mai io dovrei volere gestire le notifiche da wall panel quando le notifiche possono essere dette dal mio assistente vocale si riempie il filtro perché avere una notifica che mi compare che poi magari non la vedo e non la leggo Anna o l'assistente vocale che sarà dice o è pirla c'è il filtro pieno è così basta se scritte nuovo secolo basta scritte ci vediamo domani ciao ciao ciao